Musica Esci da mio padre! 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 No! No! No padre! Che fai? Che fai? Pronto polizia? Chiamo da via dei vighettieri, 79. Nel palazzo di fronte a me c'è un uomo, una donna che stanno litigando la... ...eure altre Wörter auf Papier zu schreiben! ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. Non ascoltarli. No. E comunque... No, no, no. Io sono Salvatore Baccaro. Salvatore Baccaro! Respira ancora. I congiurati non se ne accorgono. Come può essere ancora vivo? Quali sono i suoi poteri? Grazie al peccato... No, 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 no. No, no, no. No, no, no... Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.